19 mesi, tanti ne sono passati dall'ultima vittoria alla Vitri Frigo Arena della VL. Questa volta la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro ce l'ha fatta. C'è voluto un tempo supplementare, ma è arrivata la prima vittoria in casa della stagione, la seconda consecutiva in campionato, la terza di un torneo che fa emergere i peseresi a sei punti in classifica. La squadra di coach Repesia vince all'overtime 95-83 sulla Vanoli Cremona e l'allenatore croato si coccola i due punti, ma analizza anche i tanti errori commessi. L'inizio della partita è stato buono, abbiamo segnato poco inizio della partita, prima di tutto per poca fluidità la pala in attacco, sono stati troppo statici e loro avevano vantaggio. L'esempio come dobbiamo giocare è stato il secondo quarto, difendere e correre, abbiamo fatto la differenza là, il secondo quarto. Il secondo tempo è da dimenticare, vi spiego subito perché. Perché quando siamo andati 21, più 22, qualcuno ha pensato adesso posso fare un numero, due numeri, posso fare una statistica e quando siamo scesi vicino a 10 o sotto 10, dopo sai come ogni pallone pesa, ogni possesso pesa e le ture non sono come normale. Mi dispiace dire ma onestamente sono stra deluso come abbiamo giocato il secondo tempo, supplementare abbiamo giocato con molto più intelligente, sono strafelice perché Pesaro ha vinto dopo 19 mesi partita a casa e speriamo non aspetteranno i nostri tifosi altri 19 per vincere di nuovo. VL vincente e fortunata, un po' come la Vis Pesaro, che al Benelli contro il Gubbio ha trovato la sua seconda vittoria in campionato dopo 90 minuti di estrema sofferenza al cospetto degli Umbri che hanno sprecato l'impossibile. La Vis ha faticato enormemente sul piano del gioco, ha creato molto meno dei rosso-blu ma ha segnato e dunque vinto. Man of the match, il 22enne piemontese Federico Giraudo che al 77esimo ha trovato il suo primo gol in maglia vis su Assis di Pannitteri. La Vis respira, il Gubbio viene lasciato sul fondo della classifica insieme all'Alma Fano che è incappata nella quinta sconfitta consecutiva, arrivata per giunta in uno scontro diretto, quello che Ravenna ha premiato i Romagnoli con rete di Moculu su rigore nel cuore della ripresa. Un Fano nemmeno fortunato visto che Barbuti ha colto una traversa che sarebbe valsa il pari. Dal calcio al calcio a 5 vince e convince l'Ital Service che si prende il suo secondo successo consecutivo. Al Lido di Ostia i pesaresi di coach Colini vincono 8-4 una partita in perenne aggressione e praticamente mai in discussione, con l'Ital Service in vantaggio già 6-1 nel primo tempo. A firmare la vittoria tre reti di De Oliveira, due di Canal, due di Barruto e una di Tony Dandel. Il successo però più prestigioso del weekend di sport provinciale arriva dal Trentino. Ai campionati di ginnastica ritmica di Folgaria è infatti arrivato l'ennesimo titolo tricolore per l'Aurora Fano. La società di ginnastica di Paola Porfiri si è laureata campionessa d'Italia 2020 nell'insieme cerchi e clavette esultando grazie alle prestazioni impeccabili di Maria Zaffagnini, Giulia Della Felice, Alexia Gorina, Giulia Sanchioni, Camilla De Luca. Tutte preparate magistralmente all'appuntamento da Letizia Rossi e Nani Londarizze. Grazie. Grazie.